No, 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 io avevo l'intenzione di partire con Giorgina, però alla fine La mamma è Lucchino, la mamma è Giorgina al massimo, la mamma è Lucchino Alberto, arrepigli un secondo, compa, chiamo la mamma è Giorgina e la tranquillizzi, ma ti rendi conto, compa, hai 24 anni Alberto Eh, vabbè, 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 ti spiego, ti spiego, ti ha chiamato, se tu mi dici che ti ha chiamato adesso la mamma è Giorgina, hai giusto tranquillizzare sua mamma, no? Ma no, fra 10 minuti, ora la tranquillizzai, devi sentire Giorgina, compa, magari non ti... Ciao Qualche contatto Non lo so se è sola, mi sa che è sola, perché la mamma è qua, veniva da te, direttamente da te veniva Vabbè, chi? Ciao Comunque non l'ha capito, cioè si capiva da scopertelo Allora è vero, quando chiamiamo a questa cosa, se ne ha fatto quelle rettine, se ne è venuta a Roma, se ne è tornata indietro, è qua, perché mi sentivo, non si voleva fare vedere da te con le stampette No, non ti ha trovato No, ma invece gli fai, quando chiamai, ma chi sei il bittino, e noi gli facciamo la per me No, no! Ma che sei il biblical, io gli direi qua, questa è vera No, non è vera Sono andata a casa, l'altra volta stava andata a maroporto perché a Roma... Perché vieni da qui non era a casa? No Allora, gli dici, senti, Bittino, lo faccio Sixti è giocato… Non si sa Che prego è traditire Giorgio, invece gli risponde Ricci che è discoteca No no no, Ricci è salvato no 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 il aeroporto è stato presente lui dice Giorgio è venuta a casa tua non ti ha trovato ma hai chiamato disperato è allora poundi alle vitali e basta chiudi chiudi la richiamo noi no 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 dai mi dice che hai visto Giorgio sono con la mamma una mamma è bellissimo L'unità di crisi è attiva No, ci sono a casa della mamma di Giorgia No, no, no Alberto, Alberto, ti chiamo da casa Quindi, eh Chiama subito la mamma di Giorgia Perché mi ha chiamato, è preoccupato Chiama subito adesso la mamma di Giorgia Cinque Io te la dire che c'è a dire Come c'è, io andrei Sì Cioè, è mia Perché c'è Dicito che minchia, sai Cioè Cioè Basta Uno, due, tre per nascere A me volessi sentire, no è il magio! 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 non lo potiamo evitare mi muovo la tranquillità dimmi tu che cosa gli devo dire tranquillizzami tu Giuseppe mia! Sapeste i miei anni che sono enti? Sapeste i miei anni un po'! Mi ha la più preoccupata, hai scelto? Fammi preoccupare! Mi fate preoccupare le mie cimano! Aspetta, preoccupate di mia madre! Aspetta, aspetta! Niltino! Ma come? Io ti affido mia figlia! E tu? E tu? Mi ha fatto troppo denso e ci ho messo in cucina! E tu?